In generale le ragazze non italiane sono più aperte, questo è in dubbio. Ciao, quelli che stai guardando sono estratti di un percorso di consulenza che sto tenendo all'interno della mia Masterclass con un uomo esattamente come te che ha dei problemi che lo toccano nel profondo e che deve assolutamente risolvere. Guarda la qualità di informazioni che rilascio e come seguo il suo processo passo passo fino a portarlo alla soluzione, a quello che deve fare ora per risolvere la sua situazione sentimentale. Vuoi partecipare anche tu al mio percorso Masterclass? Bene, clicca il link sotto in descrizione e parla con il mio coach che ti saprà dare indicazioni per entrare. Sei ancora in tempo, costa veramente pochissimo, è per tutte le tasche, quindi affrettati perché è ora di risolvere il tuo problema alla radice e darti la vita sentimentale che desideri. Ora, cogiti il video. Perché? Perché le ragazze italiane sono dannatamente abituate a ricevere approcci sia in chat, soprattutto in chat, nell'app di dating, del Vigo o meno, però comunque vengono continuamente accerchiate anche da ragazzi e ci provano in tanti. E quindi hanno sviluppato un po' questa mentalità del gliela spingo un po' tutti, faccio un po' la stronza e gliela faccio sudare. All'estero invece, e me lo confermono anche un sacco di miei amici che sono stati in diverse nazioni del mondo, c'è una mentalità diversa, cioè all'estero la donna è anche quella che fa il primo passo talvolta, non sempre, però c'è un bel equilibrio, cioè se non sei tu, spesso è anche lei. Quindi è sicuramente vero e quindi già solo il fatto che tu sia in un'altra nazione lo puoi provare, puoi provare il fatto che le ragazze siano diverse. E questo lo noti anche nella straniere in Italia. Perché? Perché sono comunque figlie queste ragazze non italiane di una mentalità diversa, vengono cresciute in maniera diversa, hanno valori diversi, abitudini diverse e fanno anche cose diverse. Quindi se non sono abituate a far fare tutto al maschio, quando vogliono qualcosa, quindi sono anche più interprendenti, vogliono qualcosa perché vedono un bel ragazzo, prendono, partono e magari ci parlano. Un mio amico mi ha raccontato di una volta in cui era stato in Erasmus in Portogallo e là era in un bar che si faceva gli affari suoi e una ragazza è arrivata e gli ha offerto da bere. Come scusa per approcciarlo, per parlarci. Questo perché? Perché era abituata così, semplicemente. Quindi varia molto anche dalla forma mentis che è una ragazza. Quindi questo lo puoi notare sia in straniere in Italia, sia se sei all'estero, perché all'estero ovviamente non sono italiane. Il secondo motivo è il fatto che all'estero, e questo lo puoi vedere anche nelle ragazze italiane, c'è quella che si chiama la cosiddetta sono lontana da casa e nessuno mi conosce. Ti spiego cosa si intende. Se tu approcci una ragazza che sta nella sua città, ha più quella sensazione, quella paura di essere, tra virgolette, scoperta, vista, additata da altri mentre si concede ad un uomo, mentre cede alle sue lusinghe, al suo approccio. E quindi, siccome le donne hanno paura di fare la figura delle poco di buono o di quelle che la danno a tutti, devono, tra virgolette, mantenersi all'apparenza pure e quindi a respingere l'approccio del maschio. Anche se questa cosa, come sappiamo, è una cosa sciocca, perché se siamo arrivati fin qua, se siete vivi anche voi, è perché i nostri genitori, i nostri nonni, ci sono riprodotti, sono accoppiati per farci arrivare fin qua. Però sa di fatto che è così, nel senso, una ragazza che gravita nell'ambiente in cui vive può incontrare persone che potrebbero giudicarla male o bene se lei si concede in terminati atteggiamenti. Per quello che farsi beccare magari da un parente, dalla mamma o da chi che sia, mentre si è fuori con un ragazzo, è brutto perché è imbarazzante ed è giudicante. Mentre una ragazza, anche italiana, soprattutto italiana, se va all'estero e quindi per esempio la trovi, la approcci in una vacanza che può essere un viaggio evento oppure trovi un gruppo di italiane, tu e il tuo gruppo di amici in Grecia, sarà più facile perché? Perché loro non sono a casa loro e loro pensano, tanto qua nessuno mi conosce, posso fare il cazzo che voglio. Così come voi ragazzi siete più spinti a dire mi voglio divertire perché tanto qua, insomma, sono in vacanza, le ragazze sono più disinibite, lo sono perché sono in vacanza, quindi sono più rilassate, hanno meno cazzi per la testa e vogliono divertirci anche loro, ma anche perché sono in un ambiente che non è il loro e quindi attorno non c'è persona che la può giudicare, la può conoscere e anche se lo facesse, dopo loro non la vedono più, cioè quella persona non ha effetto nella loro vita. Mentre se ti vede l'amica che poi sparla, chiacchiera, tutte queste cose, anche se a noi ragazzi non interessano, però loro sono importanti perché la donna tiene molto la sua reputazione a quello che le altre donne pensano di lei. È per quello che spesso io vi dico, vi racconto anche nei video, che quando tu che sei un ragazzo ci provi con tante donne, dopo una o due donne dello stesso gruppo, le altre non ti accetteranno più. Perché? Perché si parlano tra di loro e quindi se tu vieni rifiutato, l'altra dice, ah, l'hai rifiutato anche tu e questo va ad aumentare il fatto che tu non vada bene per le ragazze, perché una ragazza non ti prenderà mai se tutte le altre ti hanno rifiutato. È il concetto opposto alla preselezione. La preselezione stabilisce che se una ragazza è interessata a te, ha piacere a stare con te e sta con te, ti renderà più attraente anche per le altre, perché le altre pensano, ah cavolo, quella sta con lui quindi deve avere qualcosa di bello. Vale anche il contrario, cioè se tutte ti schifano, quelle che ancora non ti conoscono sanno che le altre ti hanno schifato e quindi per principio ti schifano. Perché? Perché guardano lo giudizio delle altre, per le donne è molto importante il giudizio. Quindi stare in posti in cui non si sentono oppresse da quel giudizio le fa essere più tranquille, per quello che all'estero le ragazze italiane sono più tranquille rispetto alla stessa ragazza magari nella tua città. Quindi quello che dice il tuo amico sul fatto che le ragazze all'estero siano così è vero per le italiane per questo motivo, e le straniere perché appunto sono state educate in maniera diversa e non sono italiane. Poi, in barra da nazione in azione, ci sono ragazze dell'est che sono magari molto più pudiche, nel senso che loro baciarsi per strada non esiste, o esiste molto che l'uomo sia cavaliere, nel senso che faccia certe cose in primis. Una donna non lo farebbe mai, tipo offrire da bere una donna dell'est, è difficile che lo faccia, perché? Perché si aspetta che sia l'uomo, per un discorso lisidi patriarcato. Però tutto il resto, ovvero quello che la donna dell'est fa, per esempio, va a dare la casa, va a dare i figli, quello le dà per scontato che sia così. Perché? Perché è stata cresciuta così. Quindi dipende sempre da come una ragazza viene cresciuta, quelli che sono i suoi valori, quelle che sono le sue abitudini. Qua in Italia, ovviamente, per un discorso anche di, come posso dire, progressismo, ci sta che l'uomo e la donna si dividano i compiti magari in casa, una coppia per esempio. Però qua è ancora forte il fatto che sia l'uomo a provarci, l'uomo ad offrire, l'uomo ad andare da lei. Mentre la donna, magari ispanica o francese, ci sta che ci provi lei. La donna dell'est magari non ci prova, però quando tu ci provi e lei capisce che tu vali, in quel caso cosa dice? Ok, gli do tutto. Nel senso diventa carina, diventa affettuosa, ti fa da mangiare, ti fa anche le pulizie. Alcuni amici che mi hanno raccontato che dopo essere stata a letto con ragazze dell'est che si erano prese tantissimo, gli hanno pulito casa per dire, cioè, come per sdebitarsi, una cosa che loro sentono il dovere di fare perché tu hai fatto tutto quello prima. Gli hai offerto la bere, sei andato a prenderla magari, ci hai provato, quindi hai rispettato il ruolo che l'hai abituata a capire, immaginare. Perché? Perché sei educata così, che si fa così. E varia da paese a paese. Grazie a tutti.